Primo anno, 2013. Il Black Friday sbarca a Padova. Per la prima volta in Italia arriva la grande notte dello shopping. Per la prima volta i negozianti del centro fanno squadra per un grande evento che porta in città 80.000 persone da tutto il nord Italia. Per la prima volta i shoppers possono usufruire disconti fino all'80%. Secondo anno, 2014. Poco tempo e un numero limitato di capi, nascono le Black Friday Angels. Tre blogger che con i loro consigli guidano i consumatori verso l'affare più giusto per loro. I numeri del Black Friday crescono. I negozi aderenti sono ormai 400. Terzo anno, 2015. Ci prendiamo gusto. Dalla collaborazione con bar e ristoratori padomani nascono il Black Spritz e il Baba Black. Un aperitivo e un dolce creati appositamente per festeggiare un evento che diventa sempre più globale. Quarto anno, 2016. Padova festeggia la consacrazione del Black Friday con una notte da 150.000 visitatori. In contemporanea con i Black Friday di tutto il mondo. Alla fine il bilancio farà registrare un giro d'affari di oltre 4 milioni. Quinto anno, 2017. Gli shoppers tornano ai blocchi di partenza. L'acquisto dell'anno è in centro che attende. Segui il giallo e troverai i grandi affari Black Friday Padova. Gli shoppers tornano ai blocchi di partenza.